Io mi chiamo Alessandro Mazzei, sono un ricercatore del Dipartimento di Informatica e sono stato invitato qua a Bitto Vistori per parlare di un progetto che abbiamo portato avanti negli ultimi anni che riguarda la traduzione automatica da italiano a lingua dei segni italiani, è un progetto che ci ha impegnato molto, io oggi ho cercato di far capire il perché, ci sono una serie di difficoltà nella traduzione automatica, è un sogno ambizioso che la fantascienza aveva anticipato già nei primi film degli anni 60 ma che oggigiorno sembra quasi realizzabile, per alcune lingue, l'italiano, l'inglese, siamo abbastanza vicini ad una vera completa traduzione automatica ma per altre come lingue segnate la cosa è molto più difficile per una serie di motivi che ho cercato di spiegare, il motivo forse più importante è che ad esempio le lingue dei segni non si possono scrivere, quindi anche mettere in un file una frase in una lingua dei segni è molto complicato. Tutto questo ha portato a delle difficoltà nei nostri progetti, comunque oggi ho fatto vedere quali sono gli approcci che abbiamo impiegato e perché io penso che siamo sulla strada giusta per arrivare a dei sistemi che permettano di rendere più accessibili i testi alle persone sorde, grazie.